Di solito non faccio questo genere di discorsi, ma questo ha tutta l'aria di essere un momento topico. E so che non è semplice essere banditi dall'MI5 e finire nella mia unità. Ma ve la siete cercata. Solo i falliti finiscono alla Casa del Pantano. E ve lo dico con franchezza. Lavorare con voi è stato il punto più basso della mia miserabile carriera. Bene. Cosa stai cercando? I rimasugli di un trio che avrebbe potuto fare grandi cose. Credevo che da noi fosse come in carcere. Non si fanno domande. Tu perché ci sei dentro? Io voglio davvero rendermi utile. Non mi sono mai annoiato tanto in vita mia. Sa quante persone sono riuscite a tornare dal Pantano ai piani alti di Regent's Park? Farvi capire un concetto è come cercare di spiegare la Norvegia a un cane. Nessuna. Questa la dovete sentire. Ostaggio. Ma è prigioniero qui. Vuol dire che finalmente si muove qualcosa. Che c'entra questa storia con voi? Qualunque cosa stia accadendo è un lavoro per veri agenti. Ok, lo so. Siamo solo dei ronzini. Ho una pista e voglio seguirla. Tu mi aiuterai. Oh no, non lo farò. Ti piace o no, il Pantano è coinvolto ormai. Ma che razza di gioco stai giocando? Non volevo ammazzarlo. Certo che no. Se avessi voluto farlo sarebbe ancora vivo. Hai messo delle vite in pericolo. Questo è fuori protocollo. Io dirigo il personale. Il tuo e quello di chiunque altro. Sta coprendo le tracce. Ma è quando cerchi di coprire le tracce che resti fregato. Ti stanno a cuore i tuoi uomini, vero? No, sono solo un mucchio di fottuti perdenti. Ma sono i miei perdenti.